Il Signore di Maria, benedica a noi e il nostro intero, Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo, Amo. 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 Padre, e Mo. Padre, e Figlio, e Spirito Santo, Amo. Se voi vorreste, da quanto riguarda le persone delle campanee, voi mi avete chiesto quanto si torneranno a fare le campanee. Dovremmo aspettare ancora un po' perché ci sono dei lavori da fare all'interno delle campanee che si stanno concludendo. Ci vorrà ancora qualche settimana. E infine l'appuntamento per tutti voi oggi pomeriggio all'eserci, in oratorio, per continuare questa giornata insieme e per concludere in bellezza facciate anche da questo solo che la providenza di Dio si dispensa. Prima di concludere, permettetemi di ringraziare il nostro staff tecnico che sta proverendo alla condizione di questa benedizione e anche quando si può essere una volta il capo basso, nunca perché con noi ci ha consentito di un futuro libero di questo staff. Grazie a tutti voi, mi felicito, buon appetito e buona giornata. Grazie a tutti. 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 Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie. 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 Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è detto. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto tra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. E per intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. In ogni caso abbiamo concluso questa grande invocazione di benedizione che è non solo per noi ma è distribuita a chiunque ci incontri e a tutti coloro che abbiamo portato nel cuore per questa intera giornata. Se volete dedicare un po' di tempo c'è la pesca di Beneficenza e c'è anche il Pozzo di San Patrizio per i bambini. Andate a vedere com'è. Mentre ci muoviamo, mentre ci disperdiamo, la banda ci offre ancora un momento di stacco. Intanto noi li ringraziamo perché dobbiamo anche incoraggiarli e sperare che crescano di numero. Facciamoglielo l'applauso a loro perché dobbiamo riuscire a ricostruire la banda del territorio. Tutto il territorio in qualche modo va sempre costruito e tutto ciò che c'è non va perduto e anche voi che siete poveri, dipende anche da voi insomma, raggiungere il cuore delle persone perché si uniscano a voi e vi completino nel numero. Grazie comunque per la vostra presenza. a voi la voce. Buon pomeriggio a tutti voi intanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.